Il traffico di due province è dilottato su Canicati, quali disposizioni ha dato ai suoi uomini? La disposizione che abbiamo adottato come Polizia Municipale è quella di vigilare in maniera attiva ma anche propositiva verso il cittadino l'asse su cui il traffico è stato dislocato. Ci sono dei vigili nei due turni di servizio che noi riusciamo a garantire lungo questo asse che svolgono un'attività di controllo attivo su quell'asse finalizzato a favorire quanto più possibile il traffico che su quell'arteria in questo momento ricade. Stiamo parlando di un traffico consistente, in questo momento magari vediamo soltanto i primi elementi ma nei prossimi giorni sicuramente avremo un flusso veicolare specialmente del traffico pesante sul nostro territorio rilevante. La presenza dell'affinità dei vigili è quello proprio di informare i cittadini, di prevenire al massimo le situazioni di disagio e quindi garantire nel contempo una sicurezza che la città e il territorio merita proprio per la peculiarità che questa deviazione sta portando. Via Saetta, via Livatino, via Fasci Siciliani ma anche la circonvallazione e stavolta sarà tolleranza zero per le doppie file? Nei primi giorni ci stiamo vivendo nella logica della sensibilizzazione perché questo è un aspetto nuovo per la città ed è bene dare la possibilità ai cittadini di comprendere questa nuova esigenza che si sta prospettando che durerà per circa un mese. L'esigenza poi di essere poco tolleranti è legata anche ad alcune situazioni che insistono su questa arteria. Questa è un'arteria di grande rilevanza per la città, su questa arteria si muovono i mezzi di soccorso, non dobbiamo dimenticare che su Via Saetta c'è proprio l'accesso al pronto soccorso cittadino e l'italiano preferito anche da parte dei vigili del fuoco quando si muovono negli interventi di emergenza. Quindi l'arteria in sé ha delle caratteristiche che necessariamente portano ad attenzionarla in maniera puntuale, in maniera finalizzata a garantire quando più possibile il traffico. Questa è un'esigenza primaria e rispetto a questo noi siamo chiamati a svolgere un ruolo che è quello del controllo e quello anche della sanzione qualora, ripeto, l'attività preventiva non sortisca effetto. Questo nuovo servizio influirà ridimensionando gli altri, i ordinari? Chiaramente sì, perché non è che noi abbiamo un numero di personale che possiamo aumentare all'occorrenza, non è che noi ci vogliamo nell'ambito delle risorse disponibili e ordinarie. Chiaramente l'attivazione di questi servizi puntuali sul territorio appiedati nei punti nevalgici dove il traffico, riteniamo, si possa presentare, comporta necessariamente la riduzione e la presenza di altri personali in altri posti, però in questo abbiamo preferito ridurre un po' l'attività che interessa prevalentemente le attività amministrative e burocratiche, quindi degli uffici, cercando di limitare al minimo l'utilizzo del personale già utilizzato negli ordinari servizi di viabilità.